Passiamo a parlare di musica, parliamo di un disco, di un bel disco da mettere sotto l'albero opera prima di una straordinaria pianista che è Eugenia Tamburri che è con me in diretta al telefono Buongiorno e bentrovata Salve, buongiorno, grazie per l'invito Allora, amica ormai di Radio Primaverite ci siamo sentiti anche altre volte parliamo invece del tuo primo disco da solista Da solista, sì, è un'occasione particolare e chiaroscuro è il titolo ed è online, è disponibile da ieri 23 dicembre ho scelto musiche classiche da Bach, Willem Friedemann Bach, uno dei figli di Bach fino a GBC e anche Weider Wege, quindi un compositore contemporaneo del 900 poco registrato e poi c'è anche una traccia di un autore monetano il cui autografo è stato ritrovato nella biblioteca del Conservatorio San Pietro Maiella a Napoli quindi ci tengo particolarmente a questa melodia per pianoforte opera 1 di un Francesco Paolo Antonio che è un morto giovanissimo Sicilia tra l'altro, è un compositore sconosciuto molisano essendo io comunque di origini molisane mi piaceva mantenere un legame con le radici che poi non ho mai abbandonato pur vivendo a Roma da oltre 20 anni musica francese perché GBC fa parte un po' del colore del 900 con l'ultima sua composizione poi ho deciso di inserire la Fantasia Eta Minore la terza K397 di Mozart perché era un pezzo che suonavo da bambina e poi che il disco è dedicato a mio papà ho inserito i brani musicali che lui amava ascoltare e quindi anche lo strastrasuonato è utilizzato anche come colonna sonora in diverse pellicole cinematografiche il notturno opera posto ma di Chopra in dodiasis minore che è musica tra virgolette commerciale della musica classica perché è ultra noto anche ai non addetti ai lavori quindi le tracce sono variegate da Bach fino a Baitepeke 11 tracce, chiaro o scuro una bella cavalcata quello che ti volevo chiedere è perché che solitamente si associa alla musica classica più allo spettacolo dal vivo che alla registrazione com'è invece il sentimento della registrazione per chi come te è anche una concertista? Mi piace l'idea alla Glenn Gould di fissare momenti di studio per cercare il suono se il suono è che non ho fatto è perché ero innamorata da bambina del suono di Arturo Benedetti Michelangeli di Claudio Rau dei suoni di una volta il sapore è proprio quasi da fonografo da prime registrazioni quindi uno studio sul suono e mi piace chiudermi nella sala di registrazione e lavorare sul suono quindi la Digital Records a Roma via Ugo De Calolis mi ha permesso di fare questa cosa e quindi ringrazio Goffredo Gibellini della Digital Records che mi ha voluto produrre come sua artista e la cosa mia mi ha fatto gioire in un 2022 abbastanza un po' per forse poi ti nasce è un po' atipico registrare i dischi perché oggi i dischi non li registra quasi più nessuno di musica classica perché sono pezzi ultranoti dei quali esistono milioni di registrazioni a parte qualche traccia perché per esempio Bix By The Bake che mi risulti esiste soltanto un'altra registrazione proprio sua che è stata utilizzata per un film di Pupiavati Bix anni fa e poi Paolo Antonio credo ci sia un'incisione ma proprio interna al conservatorio quindi ho cercato musiche che che solitamente non vengono suonate per esempio il Lamento dalla sonata in sol di Willem Friedman Bach non è un pezzo ultranoto ma molto insomma ascoltato il Lamento di Friedman Bach così per usare musiche note e musiche meno note perché un po' come tutte le cose se non le conosci non riesci ad amarle ad apprezzarle ma poi se le senti magari ti piacciono anche ed è difficile far amare la musica classica poi pianoforte solo io sono camerista da vent'anni quindi mi capita più volentieri di suonare con tri, quartetti, quintetti oppure con le voci quindi il repertorio vocale da camera invece volevo proprio tornare al mio strumento un po' un ritorno alle origini volevo lavorare sul pianoforte perché in realtà nasco così e quindi le altre cose che ho fatto in altri ambiti si mi hanno un po' circondato ma il primo amore non si scorda mai come voi così in territorio partenopeo spesso dite quindi anche nelle romanze nel romanzo della Salazzo Napoletane sono tornata al primo amore ecco pianoforte e basta piano solo senti hai pensato un ascoltatore tipo oppure un disco per tutti per tutti per tutti speriamo pure lo ascolti qualche giovane che magari se innamori al pianoforte speriamo poi sono state messe le tracce in una sequenza proprio in base all'ascolto un ascolto musicale quindi anche le tracce della Mojo in Piano Suite di Pink Spider Pay che le ho volutamente divise perché mi sembrava più carino ascoltarne prima una e l'altra un po' dopo quindi chiaroscuro proprio riferendomi ai colori cioè come i pittori nelle tele utilizzano i colori primari secondari proprio per dipingere sugli oli sulle tele noi utilizziamo i colori quindi dal più che pianissimo al più che fortissimo e in questi pezzi passando anche per Scriabin ho scelto uno studio a capriccio con forza che è l'esatto opposto del lamento di Bach quindi ci sono dei fieri contrasti che ho voluto trascrivere perché un po' rispettano quello che sono io allora ricordiamo Chiaroscuro di Eugenia Tambur disponibile su tutti i digital store e anche su Spotify perché è abbonato a questi servizi chi invece ti vuole ascoltare dal vivo dove ti troverà prossimamente? Prossimamente sarò a Bologna di nuovo per l'Emilia Romagna Festival e poi a gennaio adesso in realtà non mi ricordo le date del calendario ma sul sito sono disponibili quindi qualora qualcuno fosse interessato sono rintracciabile ormai la rete non nasconde quasi più niente nel bene e male ma al di là è difficile nascondere la tua bravura e anche la tua bellezza una splendida pianista in tutti i sensi allora ricordiamo ancora Chiaroscuro di Eugenia Tamburri grazie per essere stata con me questi pochi minuti grazie a te buona giornata buon Natale auguri a tutti auguri a te e anche buona giornata e buona vigilia a te grazie a presto a presto grazie grazie a tutti